Sì, sto copiando questo video da Richard, mi avete scoperto. Cosa faremo in questo video? Essendo uscita qualche settimana fa il nuovo album di Nitro e prendendo appunto, come ho già detto, ispirazione da uno dei video di Richard di qualche anno fa, andremo a tirare fuori un'illustrazione da due canzoni in particolari contenute all'interno dell'album, ovvero Paranoia e Abissi. Perché queste due canzoni? Perché sono quelle che mi hanno colpito di più e inoltre sono quelle un po' più tristie, cosa che mi aiuta molto a tirar fuori tristezza. Detto ciò, possiamo iniziare, però il credit è pronto e anche le cuffie e la mia sanità mentale un po' meno, ma non importa. Non sapevo bene su dove volessi andare a parare con l'illustrazione in generale, ma la prima cosa che avevo voglia di rappresentare era la frase Bevo anche il lunedì, motivo per cui uno degli elementi che poi ho tenuto buono anche per il disegno fino alla fine è stata quest'ombra rossa con una persona che sta bevendo del vino o comunque una bottiglia di alcol. A questo punto non mi ricordo secondo quale processo mentale, ho deciso che forse al posto di presentare Nitro magari cartonizzato oppure una persona avrei potuto fare direttamente uno scheletro, cosa che col senno di poi darà un impatto mostruoso. Siamo arrivati a questo punto dove possiamo vedere che ho creato un scheletro con una sorta di ombra rossa che è dietro di lui, ma che come vedete qua arriverà a disintegrarsi. Vi faccio vedere qui. Oltre a questo abbiamo questa sorta di capigliatura afroamericana che in realtà non è una capigliatura, ma sarebbero i pensieri anneriti che escono dalla testa dello scheletro, neri come possiamo vedere anche i polmoni che sono un pezzo di una citazione della canzone, quindi non lo so. Per me il rosso e il nero stanno un sacco bene insieme, quindi visivamente molto d'impatto considerando anche che lo scheletro ovviamente sarà bianco. Ora la mia indecisione sta nel fatto che ero indecisa se lasciare lo scheletro completamente bianco oppure di fare metà scheletro che effettivamente è lo scheletro e metà tipo che in realtà ha una faccia, capito? Cioè metà tipo persona e metà che rappresenta ciò che c'è dentro. Quindi lo scopriremo andando avanti con questa illustrazione. Questa per ora è la bozza. Vediamo cosa ne esce. Alla fine cambiando i colori ha molto più impatto fare lo scheletro bianco e molto stilizzato. All'inizio non volevo fare una cosa del genere, volevo fare una cosa abbastanza complessa, però sembra un po' un poster così, mi piace molto, quindi penso che ci scriverò anche tipo paranoia o comunque outsider o una cosa del genere e lo faccio a mo' di poster locandina per l'album. A questo punto stavo rifacendo lo scheletro. In realtà alla fine non è uscito molto diverso da quello della bozza, però ho sistemato un paio di problemi come per esempio il naso che non era fatto bene, nel senso che era sbagliato, e anche la cassa toracica che nella bozza era davvero terribile. Adesso invece sono contenta di come è uscita, quindi perfetto. Ok, allora lo scheletro lo abbiamo rifatto. Mi piace davvero un sacco come è uscita la cassa toracica, cosa che io non avrei mai detto sinceramente perché non è che faccio scheletri molto spesso. Adesso ci ho aggiunto i due polmoni. Come vedete nella bozza ho aggiunto anche i capelli di nitro, nonostante ovviamente non è una cosa che dovrebbe accadere siccome non stanno direttamente sullo scheletro, però secondo me hanno il loro perché, quindi li aggiungerò lo stesso. E poi manca da fare l'ombra e magari qualche dettaglio per renderlo un po' più di impatto. Ok, allora l'effetto che è uscito sui capelli, mi piace un botto. Questo è uscito mettendo praticamente un'immagine di capelli sopra i capelli che avevo stilizzato sul teschio e poi facendo delle maschere di ritaglio e moltiplicandosi. Ok, non sta uscendo propriamente un disegno, sta uscendo una sorta di misto tra disegno e fotomontaggio, però mi piace molto l'effetto che sta dando, anche perché questo glitch sulla testa sembra ricordare il mal di testa, questa cosa che, essendo che paranoia parla dell'overthinking, ci sta secondo me. Bene, questo è il risultato finale. Sinceramente non è quello che mi aspettavo che avrei fatto oggi, però devo dire la verità, sono stracontenta di come sia uscito. Mi piace un sacco tutto ciò che fa parte di questo disegno e niente. Fatemi sapere qual è la vostra canzone preferita del disco, fatemi sapere cosa ne pensate di questo disegno. Se volete vedere altri disegni fatti da me, soprattutto magari della categoria cantanti, ho aperto una sorta di format dove faccio dei ritratti ai miei cantanti preferiti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie per la visione.